Offerta, ma alla fine è arrivata la vittoria. Il Bari riprende la corsa in zona play-off, ma contro il fanalino di coda Latina ha dovuto sudare per ottenere i tre punti. Primo tempo tutto dei laziali, pericolosi in più di un'occasione. Il Bari si è visto poco e quando ha costruito qualcosa di concreto non è stato lucido sotto porta. Nella ripresa il calo fisico del Latina ha dato vigore alla spinta offensiva del Bari e così al 63esimo è arrivato il gol del vantaggio. Pallone filtrante in area, velo di Rajcevic e gol di Galano, abile ad anticipare e bruciare Pinzoglio. Il Bari deve solo gestire il resto della gara. Floro Flores esce per una botta alla coscia al suo posto maniero. Calano i ritmi, il Latina si fa pericoloso, ma è Mikai provvidenziale. È proprio sul finire il 2-0 su punizione di fedele. Il Bari pur senza brillare ottiene tre punti e quella è la cosa importante.